Buongiorno a tutti, questo è un video su MotoGP21 e come risolvere il bug delle numerose crash, delle numerose cadute dell'IA. Se voi fate tutte le sessioni di fila, o almeno due sessioni di fila, tipo qualifiche Q1, Q2 e poi iniziate subito la gara, l'IA, Anna, il sistema di millestone di questo IA artificiale andrà in crisi, andrà a creare un bug e in una curva in tutte le piste, qua all'usail Qatar Moto3, l'IA cadrà sempre in questa curva, ogni giro tutti i piloti, o almeno una gran parte dei piloti, cadrà creando grosso problemi, cadute ripetute e quindi una gara più o meno compromessa. Se invece volete risolvere questo problema, io in attesa che i programmatori lasciano una bug fix e risolvano anche il problema del quando accadite la moto continua a recuperare 15 metri e 40 secondi, invece l'IA non ha questa impostazione e li sali subito e per i 30 secondi di gara. Se voi sistemate, facendo come ho sistemato io, chiudete il gioco e ripartite solo per la gara, il gioco e l'IA non andrà in crash e potete vedere come in questi passaggi i piloti non cadono e continuano a fare una traditoria normale come se l'IA avesse riscontrato nessun problema e quindi riesce a spingere. Quindi se volete sistemare questo problema, chiudete il gioco tra qualifica e gara, spegnete, riaprite solo per fare la gara, iniziate la gara e l'IA incredibilmente non crasherà e non ti porterà a nessun problema. Se vi piace questo video, metti mi piace e follow. Grazie per la visione!